Prova che è viva. Da dove viene? Urgistan. Vedi? Vanno a Est. Probabilmente ad Almazdra. Se la portano là, la perderemo. Ce ne occupiamo noi. Non ci pensare, John. Può ripetere? È un tiro alla fune, ragazzi. E dobbiamo indietreggiare, non avanzare. Da quando? Da adesso. Non manderemo la cavalleria. Servono preparazione e pianificazione. Servono violenza e tempismo, le mie specialità. E qui c'è in gioco la vita di Kate. Capisco come ti senti, Capitano. È successo durante la tua missione e adesso vuoi rifarti. Ha intenzione di abbandonarla? Vi sto dicendo che non posso aiutarvi. Ma non vi fermerò. Mi servono dodici ore. Non morire, John. L'Aswall non lo vorrebbe. E neanche io. Kate non è sua amica, signore. In guerra non ci sono amici, solo nemici. Buona fortuna. Ci scontreremo con Alcatala nel loro territorio. Avranno centinaia di soldati a proteggerla. E noi, invece? Avremo un esercito. No vi andiamo. No vi andiamo. Capitano, puoi fare. È ora. Ok. Atterriamo. No vi andiamo. Grazie a tutti.